Dopo l'iniziativa dell'album delle figurine dei personaggi biblici, Don Stefano Panebianco, parroco della comunità San Nicola di San Nicolò, frazione di Asci Catene, provincia di Catania, ha realizzato un altro progetto rivolto ai fanciulli della Catechesi, l'album dei Santi. 48 figure di Santi, in particolare quelle legate alla devozione del territorio diocesano e parrocchiale, sono i personaggi di un album di figurine adesive da completare e conservare nel raccoglitore che sarà consegnato ai ragazzi. Lo scopo è quello di far conoscere i Santi della devozione popolare che segna la storia della comunità. Nonostante i cambiamenti socioculturali e religiosi del nostro tempo, la tradizione culturale della Sicilia è legata al culto dei Santi. I tridui, i settenari, gli ottavari e le novene in preparazione alle solennità liturgiche scandivano il tempo dell'uomo. Giorni di preghiera, devozione, processioni e sano folclore sono ricchi di significati biblici, teologici e antropologici. Queste le parole di Don Stefano Panebianco, molteplici, sono gli elementi della tradizione cristiana nella nostra cultura ed è importante conoscerli, valorizzarli e non perderli nel tempo. Il culto verso i Santi è frutto di un'autentica pietà popolare che favorisce nuovi processi di evangelizzazione del patrimonio culturale.